Ciao, sono qui sulla piramide dell'amore e ho appena fatto un lavoro bellissimo che è arrivato, non so neanche come, è stato veramente meraviglioso. E proprio questo fa parte della missione che sto portando avanti e che mi è stata comunicata attraverso la Divine Connection. E sono veramente felice perché appena mi sono connessa questa piramide lavora sull'energia eterica, lavora proprio attraverso l'amore incondizionato e attraverso l'essere senza una dualità. Perché comunque qui il maschile e il femminile sono completamente in armonia e completamente uniti. E quindi quello che è accaduto, proprio ho visto la Terra al centro di un cerchio di persone con cui mi trovavo qui e ho visto proprio che da noi, che ne fossimo consapevoli o no, fluiva amore. Proprio noi eravamo quel canale di amore per la Terra. E tra l'altro ho scoperto che questo è proprio il punto che ha il compito di diffondere amore nel mondo. Quindi se hai piacere di fare il lavoro che tra poco farò nel gruppo, chiedi proprio di entrare nel gruppo perché i lavori ormai di un certo tipo li faccio solo all'interno del gruppo. Quindi ti auguro una bellissima serata e una bellissima connessione d'amore, prima di tutto con te stesso. Perché se non ami te stesso è difficile che tu possa donare amore incondizionato. E poi che tu possa donare tutto l'amore di cui sei parte e che fa parte di te. Un abbraccio forte. Ciao. Un abbraccio forte. Grazie a tutti